Quindi come abbiamo visto, siamo arrivati a Esodo capitolo 15, per mancanza di tempo non leggeremo nuovamente il capitolo, ma vi prego di aprire le vostre Biblie affinché possiate vedere e seguire con me il testo. Quindi cosa sta succedendo? In questi due capitoli, il capitolo 15 e il capitolo 16 e parte del 17 vediamo il popolo iniziare a mormorare, mormorare contro l'Eterno, contro Mosè, contro Aoronne. Lo vediamo lamentarsi davanti alla mancanza di acqua, arrivarono ad una sorgente mara nel quale l'acqua era amara e cominciarono fin da subito a mormorare, a lamentarsi. Cosa berremo Mosè? Arrivarono nel deserto dove il cibo scarseggiava e anche lì cominciarono a ricordare il passato, il cibo che c'era in Egitto, la carne, i pentoni di carne e anche in quel momento si lamentarono, mormorarono contro l'Eterno e così anche a Massa e Meriba un'altra sorgente d'acqua, nuovamente avevano bisogno di acqua e chiesero a Mosè ma vuoi che moriamo in questo deserto? Quindi il popolo di Israele in questi due capitoli ci è mostrato come un popolo lagnoso che si lamentava, che mormorava e l'Eterno agire in queste circostanze in un modo ben specifico per il cuore del popolo di Israele. Eravamo passati appena tre giorni da uno dei miracoli più grandi che la storia dell'uomo abbia mai visto. Israele davanti al Mar Rosso vede Mosè piantare il suo bastone e l'acqua e l'acqua aprirsi e creare due grandi muri e il popolo di Israele passare all'asciutto attraverso il Mar Rosso. Il popolo d'Egitto che stava attaccando, che stava inseguendo il popolo di Israele si trova poi sommerso dal Mar Rosso. Qualcosa di straordinario. Il popolo aveva attraversato il Mar Rosso all'asciutto. Un mare che si era diviso per far passare un intero popolo di un milione di persone in mezzo ad esso. È vero, hanno passato tre giorni di deserto, un lungo cammino, un cammino arduo, c'era tanto caldo. Avevano sofferto l'arsura. Forse i loro piedi cominciavano ad essere stanchi. Ma mi chiedo, era sufficiente, erano sufficienti soltanto tre giorni di difficoltà per dimenticare quell'opera potente di Dio in mezzo a Israele. E quindi dice la Bibbia che Israele mormorò contro Mosè. Dice il popolo mormorò contro Mosè dicendo che berremo. Poi arrivarono ad uno stagno d'acqua chiamato Mara. Voi immaginatevi i più forti del popolo, i più veloci, forse i ragazzi più giovani, correre verso lo stagno d'acqua, immergere le proprie teste e cominciare a bere i primi sorsi d'acqua. Il primo, il secondo, il terzo. E all'improvviso accorgersi che quell'acqua era amara, era contaminata. E mentre il popolo era dietro, che stava arrivando ugualmente alla sorgente, si cominciò ad ascoltare le prime grida. È amara, è contaminata, non bevete. E forse qualche incredulo anche lui tuffò la testa nell'acqua per vedere. Al primo sorso, al secondo sorso, ma è possibile che quest'acqua sia amara? Mara significa letteralmente amarezza. E mi sono chiesto perché l'Eterno dopo tre giorni di arsura, di deserto, di mancanza d'acqua, li porta ad una sorgente amara. E ho pensato al fatto che l'Eterno li portò lì perché Israele aveva un problema da risolvere. Quello stagno era semplicemente che uno specchio dell'amarezza di Israele. Immaginatevi un popolo che per 400 anni aveva subito abusi, supprusi, schiavitù, circostanze difficili. E in tutto questo il loro cuore era diventato amaro. Un cuore insoddisfatto, un cuore pessimista, un cuore incredulo nella potenza e nell'amore di Dio. Vedi Israele? Questo è il tuo problema. Questa è l'amarezza che affligge il tuo cuore. E tre giorni bastano per dimenticare una liberazione straordinaria perché un cuore pieno di amarezza non può riconoscere l'amore di Dio. Sapete, quel popolo seppur libero dalla schiavitù fisica era ancora schiavo. Schiavo delle loro amarezze. Schiavo delle loro ferite. Schiavo della loro incredulità. E l'Eterno non poteva permettere che quel popolo continuasse ad essere schiavo di questa amarezza. L'Eterno voleva gridare libertà, voleva gridare guarigione. Ed era lì a presentare davanti al volto di Israele che c'era un problema nel profondo del loro cuore da risolvere. E infatti un cuore che è amareggiato comincia a concentrare su se stesso tutti i suoi problemi, le sue difficoltà e non riesce a vedere oltre se stesso. E un cuore amareggiato presto mormora, comincia a mormorare, comincia a lamentarsi. E spesso quando nella nostra vita cominciamo a mormorare, a lamentarci del nostro stato sociale, nella nostra situazione di difficoltà o a mormorare contro l'Eterno. E perché ancora c'è, cari miei, una radice di amarezza nel nostro cuore. E il popolo mormorò contro Mosè dicendo, cosa berremo? Avevamo perso ogni speranza e non c'è peggior condizione di un cuore ferito, di un cuore amareggiato, di un cuore che non sa perdonare, perché non può ricevere l'amore di Dio. E l'Eterno li pone davanti a questa scelta. E vedi Israele, c'è l'acqua, l'acqua di amarezza, l'acqua falsa e ingannevole, l'acqua contaminata. Ed è la vostra acqua, è la vostra acqua di amarezza. È ciò Israele che è nel tuo cuore. E spesso nei nostri cuori c'è quest'acqua di amarezza che si è creata nel tempo, che si è creata attraverso difficoltà che abbiamo passato. E spesso ho trovato credenti in modo triste e persone, alimentarsi di questa amarezza. Quella sorgente, quelle ferite, a volte quell'odio, a volte quel cuore che non sa perdonare, comincia ad essere un alimento per noi. E cominciamo a leccare le nostre ferite, e cominciamo a guardare, ad essere introspettivi, pensando che la guarigione provenga da noi stessi. E non lasciamo, e non riusciamo a lasciare che qualcuno, che l'Eterno, ci guarisca. E Gesù e l'Eterno rimostrano anche un'altra sorgente. Vedi Israele, la mia sorgente di vita è una sorgente, è un'acqua che disseta, è un'acqua dolce, che può rendere quell'amaro che è nel tuo cuore qualcosa di dolce, qualcosa di piacevole. In Efesini 4,31 dice, non a caso, dice, Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siete invece benevoli, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Via da voi ogni amarezza. Anche l'Apostolo Paolo aveva compreso che se c'era un cuore, se il cuore del credente è un cuore amareggiato, è un cuore schiavo, è un cuore ancora schiavo dei suoi peccati, è un cuore ancora schiavo delle sue ferite. E sono convinto, e ho visto per esperienza, che molti di noi, che molti sono stati feriti nelle loro vite. E forse tu questa mattina, pensando a te stesso, ti accorgi che hai subito delle ferite, che forse sei stato tradito, forse sei stato deluso da coloro che amavi. Credo che molti di noi forse sono carichi di offese subite, cuori ancora schiavi di amarezza, cuori amareggiati, cuori induriti, che non amano più come prima. Perché siamo stati feriti. E molte volte non ci soffermiamo a guardare quello che c'è nel profondo del nostro cuore. No, ma io sono forte, ma io posso andare avanti da solo. No, non mi hai fatto del male, no, no, non mi ha causato alcun problema. No, non mi ha deluso mio padre, non mi ha deluso il mio amico, non mi ha deluso mia moglie o mio marito. E andiamo avanti, portandoci dietro queste ferite nel nostro cuore. Ma queste ferite fanno di noi un cuore amaro, rendono quel cuore contaminato. E quell'acqua pian piano diventa putrida, fino a che comincia a puzzare. forse la morte di un padre, un divorzio, il tradimento di un amico, o una malattia, la malattia di una persona che amiamo, un abuso, un'offesa subita. Ci hanno ferito il cuore a tal punto da condizionare il nostro presente. E non riusciamo più a perdonare quelle persone. si è così indurito il nostro cuore che non riusciamo più a perdonare, che non riusciamo più a lasciare ogni peso nelle mani di Dio. Non riusciamo più a perdonare noi stessi, o forse a perdonare Dio per aver permesso alcune cose che ancora non capiamo. E questo ci ha reso insensibili alla voce e all'amore di Dio. Ma sapete, quel giorno l'Eterno disse a Israele, se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi Suoi, porgi orecchio ai Suoi comandamenti e osservi tutte le Sue leggi, io non ti affliggerò a nessuna delle infermità che ho afflitte agli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Io sono Geova Rafa, e questo è uno dei nomi dell'Eterno. Io sono colui che ti guarisce. Davanti alla sua amarezza, l'Eterno disse a Israele, io so quanta durezza c'è nel tuo cuore, io so quanto ti hanno offeso e ferito, ma io sono colui che ti guarisce. Io sono colui che può portare guarigione nel profondo del tuo cuore. E io ho la convinzione che oggi il nostro Signore Gesù è vivente ed abita nei nostri cuori, e vuole guarirci da ogni ferita che forse le persone che amiamo ci hanno causato. Vuole renderci liberi dal fardello che forse per anni ci siamo portati dietro, con l'offesa subita che non abbiamo perdonato. però dobbiamo permettere all'Eterno di guarirci. Dobbiamo confessare la nostra amarezza. Signore, il mio cuore è ferito, il mio cuore è indurito. Aiutami a perdonare coloro che mi hanno ferito. E sapete, nel perdono c'è una grande liberazione. Nel benedire l'altro c'è una grande guarigione. E io ho provato questo nella mia esperienza, nella mia vita. Ho cominciato a perdonare. E nel momento in cui ho cominciato a perdonare, ho cominciato a vedere la guarigione di Dio nel mio cuore. E sapete, un cuore ferito è impedito di ricevere quelle promesse e quelle benedizioni che l'Eterno ha promesso ai Suoi figli. L'Eterno vuole risolvere questo problema, che è un problema serio. Dobbiamo chiedere all'Eterno di guarirci e perdonare i nostri cuori, coloro che ci hanno fatto dal male. Perché Cristo è guarigione, perché Cristo è libertà. Geremia 30, 17 dice, ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore. E c'è un altro versetto molto caro a me e alla mia famiglia, Giobbe 5, 18 dice, egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Il momento in cui permettiamo all'Eterno di guarire i nostri cuori, c'è una grande libertà, c'è una grande libertà. E come quel legno fu buttato nello stagno e quell'acqua al mara divenne dolce. Questo è il simbolo della croce di Cristo Gesù. Su quella croce Cristo si è caricato di ogni nostro peso, di ogni nostro peccato, di ogni nostro dolore, di ogni nostra ferita. Non ci è più chiesto di portare questo nelle nostre spalle, ma di concedere a Cristo. Signore, prendi Tu, prendi Tu ogni mio peso. Prendi Tu il mio cuore infranto. Prendi Tu il mio cuore ferito. Voglio perdonare coloro che mi hanno fatto del male. Voglio pregare e benedire per coloro che mi hanno perseguitato. Ai piedi della croce troveremo liberazione. I nostri cuori, forse avvelenati, troveranno dolcezza. E' come Cristo davanti alla Samaritana, vedendola e dicendogli, io so che l'uomo con cui stai non è tuo marito. Hai avuto cinque uomini. Io conosco la tua vita. Io conosco i tuoi peccati. Io conosco le tue ferite. Ma vedi, io ti amo. Io continuo ad amarti. Ed io sono qua per darti l'acqua della vita. O Gesù, quando si trova davanti a quella donna adultera nel quale era circondata dai farisei, va da lei. E' come se gli avesse detto, io so cosa hai subito. Io so l'infamia che hai dovuto subire. Ma dove sono i tuoi accusatori? Neppure io ti condanno. Vai in pace. Vedete, il Signore Gesù va lì, dritto, nel cuore dell'uomo per guarirlo e per liberarlo. Quando Israele gridò all'Eterno perché era schiavo in Egitto, l'Eterno non poteva rimanere inerme, non poteva rimanere fermo davanti al grido di liberazione del suo popolo. E quando al Signore gridiamo libertà, ecco che il Signore agisce con potenza dentro di noi, per mezzo al suo Spirito. Davanti a quella donna che gli unse i piedi con le sue lacrime. Gesù è come se le avesse detto, io conosco quanto pesanti sono queste lacrime, quanto piene di peccato, quanto è pieno di ingiustizia. Ma io conosco ogni lacrima del tuo viso. E so che sono pieni di pentimento e di amore. I tuoi peccati ti sono perdonati. Vai in pace. E sapete, vi racconto un'esperienza personale. Questo passo mi ha portato a ricordare una mia esperienza. Sono rimasti 7 minuti. Mila mi conosce da quando ero ragazzo e sa che ho avuto anch'io delle mie ferite. Avevo 22 anni. Nella mia esperienza avevo visto mia sorella ammalarsi di una malattia molto rara. E si viveva in casa, areggiava in casa questo pericolo che Caterina da un momento all'altro dovesse morire. E poi vivevo come adolescente in una condizione in cui mio padre e mia madre erano sempre presi da questo problema, una malattia rara, i primi casi in Italia. E quindi tante dell'attenzione normale che vanno in quel figlio che ha bisogno. In più eravamo due bambini in affidamento. Più c'era una chiesa a portare avanti. Un lavoro, un ristorante. E a volte Giacomo era trascurato. E tutto questo a volte creava delle ferite nel mio cuore. Vidi nacquere la chiesa di mio padre e fin da subito a 18 anni iniziai a lavorare, a servire. Ma tanti amici che avevo amato intensamente, che erano parte della mia famiglia, poi tradirono quello amore. Il mio pastore, una persona che avevo considerato per me come un padre, a un certo punto non lo vidi più. Non era più presente nella comunità. E in quel momento in cui ero adolescente, chi si prese cura di me in modo particolare fu mio nonno. E poi dopo alcuni anni morì. Mi insegnò a guidare, mi insegnò tante cose. E questo cuore era continuamente soggetto a ferite. Fino a quando a 22 anni scoprì una malattia anch'io autoimmune come mia sorella. E questo non fece altro che incrementare delle ferite dentro di me. Divenni duro, duro. E non riuscivo più a amare. Non riuscivo più a perdonare. Continuavo a amare la chiesa, continuavo a servire, ma con un animo indurito. E un giorno mia sorella mi presentò una foto come questa, di me sorridente. E mi disse spero di rivedere un giorno quel sorriso che per tanti anni ti ha caratterizzato. A quel punto scappai dall'Italia, me ne andai in Inghilterra e dopo due mesi a casa di un pastore il Signore mi spinse ad andare ad una conferenza e eravamo 3.000-4.000. Ma quel giorno il Signore parlò a diritto al mio cuore. E' come se il predicatore era lì soltanto per me. E ascoltai la voce di Dio. E il messaggio del pastore era questo. Ama come se tu non fossi mai stato ferito. Mi colpì come una freccia nel cuore e dissi Signore io non amo più così. Il mio cuore è diventato duro e compresi per la prima volta che c'era qualcosa che si era rotto. Signore non voglio essere nuovamente ferito. Ero lì che parlavo con il Signore ed ero in lacrime. Signore io non voglio tornare dove c'è dolore. E' stato sufficiente il dolore che ho subito. E il Signore mi disse un'altra cosa. Lascia il tuo cuore forse in mille pezzi ma nelle mie mani d'amore. Io me ne prenderò cura. E quel giorno dissi Signore prendi il mio cuore. Prendi il mio cuore tra le tue mani e guarisci. E sapete quel giorno fu una grande liberazione nel mio cuore. Ci fu una grande libertà. E cominciai a perdonare quelle persone che mi avevano ferito. Forse tradimenti. Forse ingiustizie. Forse malattie. E a pregare per loro. Il Signore mi disse ora è tempo di tornare a casa. Ripresi la macchina, riguidai altri 1800 km. Arrivai a Siena. Mio padre mi chiese di portare un messaggio la domenica dopo. E fu questo il messaggio che portai con questa frase. E dopo la predicazione chiesi perdono ad ognuno che era presente in sala. Perché non li avevo amati come se non fossi mai stato ferito. E chiesi perdono ad ogni persona. E fu una grande liberazione. Il Signore non vuole che siate schiavi. Che siamo schiavi delle nostre ferite. Che siamo schiavi del nostro cuore che non riesce a perdonare. E l'Eterno portò Israele in una sorgente che si chiamava Elim. Oasi. Dove c'erano 12 sorgenti d'acqua. 70 palme. Quando concediamo al Signore, liberiamo, apriamo le nostre mani. Lasciamo ogni peso alla Sua croce. Il Signore ci porta in un posto che si chiama Elim. In un posto dove c'è la sorgente della vita. Dove c'è il cuore di Cristo Gesù. Dove c'è l'amore di Dio. Dove siamo ristorati. Dove siamo confortati. dove siamo amati. Dove siamo figli di Dio. Dove non è importante ciò che gli altri pensano di noi. Noi siamo i figli di Dio. Ed è in quel luogo che troviamo la vera libertà. che veramente il Signore possa operare nel nostro cuore. Perché sapete, se non risolviamo questo, ci perdiamo tante di quelle benedizioni celeste che il Signore vuole elargire i nostri cuori. Possiamo chiudere i nostri occhi e stare la presenza di Dio. E se c'è ancora un peccato non confessato, un'amarezza non confessata, un cuore indurito, che possiamo venire davanti alla presenza del Signore e dire, Padre, perdonami. Padre, non voglio più tenere queste ferite per me. Voglio che Tu guarisci. Voglio che Tu perdoni. Voglio che Tu ristori.